In Digia360 lavoro nell'area CRM e sono coordinatore di team. In pratica ho quasi una relazione sentimentale con i dati. Mi occupo della gestione, della qualità e dell'analisi del dato, ma anche di tutte quelle attività CRM orientate alla fidelizzazione del cliente e all'acquisizione di nuove lead, ovvero nuovi contatti. Nel quotidiano utilizziamo innumerevoli strumenti, in particolare Salesforce CRM, Salesforce Nanny Gator e nel team siamo cintura nera in Excel. Del mio lavoro mi piace trovare sempre nuove soluzioni che possono aiutare ad ottimizzare e semplificare le attività quotidiane. Digia360 mi permette di farlo collaborando non solo con i colleghi interni, ma anche con professionisti esterni molto competenti. Quando pensa a Digia360 pensa ad un'orchestra, perché nessuno può fischiettare una sinfonia da solo, ma c'è bisogno di un'intera orchestra per riprodurla. Grazie a tutti! Grazie a tutti!